Vi trovate davanti a un monastero che una volta era situato sulla strada per Klagenfurt alle porte della città. I Capuccini, un ordine di mendicanti, erano residenti lì. Questa comunità nasceva dall'ordine francescano e si dedicava a opere caritatevoli e alla predica popolare. La prima pietra per il convento dei Capuccini a Villach fu posata nel 1629. L'imperatore e il vescovo di Vanberg, in veste di sovrano della città, favorirono l'insediamento dei Capuccini in tutto il paese. L'ordine fu un mezzo della controriforma per riportare la gente dalla fede luterana alla fede cattolica. Villach fu uno dei primi centri della riforma, ma la controriforma ebbe maggior successo. Il lavoro dei Capuccini, il loro stile di vita esemplare, le loro celebrazioni, messe e processioni, le loro prediche e i loro servizi sociali conquistarono tanti discepoli. In seguito ci furono incendi che procuravano considerevoli danni al monastero e nel 1787 fu temporaneamente abbandonato. La chiesa è stata ricostruita di nuovo in stile neogotico. Ora si chiama Nicolai Chirche, chiesa di San Nicola, e dal 1886 è supervisionata dai francescani che vivono nel monastero. Grazie.